Ho conosciuto ora questa iniziativa, questo sito booktuber che non conoscevo e penso che possa essere un'iniziativa molto interessante per avvicinare giovani e non solo al mondo della lettura che è dal mio punto di vista un mondo meraviglioso perché ogni libro è un'esperienza, è un viaggio che una persona fa all'interno della storia ma anche di se stessi. Uno degli ultimi libri che ho letto e che mi viene da consigliare è Mio fratello rincorre i dinosauri che è la storia di un protagonista, un ragazzo a cui nasce un fratellino Dawn. È veramente molto interessante ma anche bello vedere come una persona giovane si approccia alla disabilità e alle differenze che ci possono essere da persona a persona. Grazie. 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 Grazie.